Ha sparato con un fucile contro una fototrappola, distruggendola ancora un altro sfregio al parco delle foreste casentinesi, questa volta però sfociato in una denuncia. Nei guai è finito un 42enne casentinese individuato dai carabinieri forestali. Le indagini erano partite dopo aver trovato il dispositivo in frantumi. I militari, così dopo aver raccolto le informazioni necessarie, erano riusciti a risalire all'uomo che avrebbe esploso i colpi, danneggiando una delle fototrappole che l'area protetta utilizza per il monitoraggio della fauna selvatica. Il dispositivo danneggiato è formato da videocamere automatiche che riprendono con foto e filmati e che con il semplice passaggio dell'animale attivano il rilevamento ad infrarossi. Il 42enne adesso dovrà rispondere dei reati di danneggiamento, le armi in suo possesso sono state invece sequestrate. Non si tratta sfortunatamente del primo episodio, solamente alcuni giorni fa un'altra fucilata, in questo caso contro l'insegna all'ingresso dei tre faggi nel comune di San Godenzo. Alcuni pallini di una cartuccia da caccia avevano trafitto il cartello che si trova sulla soglia dell'area. L'insegna colpita era stata scoperta dai responsabili della struttura che avevano immediatamente denunciato l'episodio ai carabinieri forestali.